Una doppietta e che doppietta? Due gol pesanti che hanno permesso a Lavastese di incamerare tre punti d'oro. Per te è una grande soddisfazione? Sì, sì, come ho detto già si vedeva subito, avevamo voglia di vincere, di portare avanti questa fila di risultati positivi. Con il lavoro duro e l'impegno da parte di tutti possiamo fare grandi cose. Grandi cose, cosa significa play-off? Adesso noi pensiamo a quello che era l'obiettivo della salvezza, che era un obiettivo che comunque dovevamo seguire da un po' di giornate e poi il resto si vedrà lavorando sempre al massimo. Per te una doppietta per ribadire la volontà di voler giocare sempre dal primo minuto? Sì, sono molto contento per questi due gol, però comunque la squadra si è comportata molto bene, siamo stati molto cattivi nei momenti giusti e molto decisi anche in fase di difesa di non prendere gol e dopo il risultato arriva. Grazie. 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 Grazie.